Buongiorno, io ringrazio Francesco perché anche io ricordo con molto piacere il lavoro che abbiamo fatto insieme per cercare di portare avanti i temi meteoclimatici con la grande ambizione di far sì che questo lavoro potesse anche dar vita a un canale H24. Io onestamente continuo a pensare che sarebbe necessario e sarebbe molto utile. Ringrazio anche tutta l'organizzazione, sono molto felice di essere qui e di avere l'opportunità di parlare con voi. Quando ho ricevuto l'invito e ho visto anche il titolo, gli orizzonti della salute e il concetto One Health, non ho aspettato tempo per dire di sì, credo che sia uno dei concetti più importanti, che si lega al tema del cambiamento climatico che quest'oggi vedremo insieme, anche se mi hanno raccontato che comunque già un percorso molto ricco è stato affrontato qui a Fondazione Zoe, credo che sia assolutamente opportuno raccontare le scienze del clima, il cambiamento climatico in maniera trasversale, cercando di capire la complessità che lo caratterizza, ma anche il fatto che il clima certamente riguarda l'ambiente, ma in realtà riguarda tutti noi nella nostra vita quotidiana, la nostra società, le nostre economie, riguarda i diritti umani, riguarda la questione sanitaria e quindi è così che va trattato, cercando di descriverlo in tutta la sua complessità, provando ad abbracciarla questa complessità. E a proposito di questo ho pensato a un percorso da fare insieme, questo percorso vorrei iniziarlo con un estratto di un film che forse qualcuno di voi ha visto nel passato. Quello che abbiamo ricavato dalle carote di ghiaccio è la prova di un cataclismico mutamento climatico avvenuto all'incirca 10.000 anni fa. La concentrazione nel ghiaccio di gas serra di origine naturale ci rivela che un surriscaldamento incontrollato spinse il pianeta in una glaciazione che durò due secoli. Non capisco. Pensavo che ci avrebbe parlato di surriscaldamento globale, non di ere glaciali. Sì, è un paradosso, ma il surriscaldamento può innescare il fenomeno contrario. Lo posso spiegare. L'emisfero settentrionale deve il suo clima temperato alla corrente nordatlantica. Il calore del sole arriva all'equatore ed è trasportato a nord dall'oceano. Ma il surriscaldamento terrestre, che fonde le calotte polari, disturba questo flusso. Che alla fine si arresterà. E quando ciò aperrà? Tanti saluti al clima temperato. Mi scusi, quando, pensa, potrebbe verificarsi, professore? Quando? Non lo so. Forse tra cento anni, forse tra mille. Ma quello che so è che se non agiremo in fretta saranno i nostri figli e i nostri nipoti a doverne pagare il prezzo. E chi pagherà il prezzo degli accordi di Kyoto? Costeranno centinaia di miliardi di dollari all'economia mondiale. Con tutto il rispetto, signor vicepresidente, il costo del non fare niente sarebbe ancora più alto. Il nostro clima è fragile. Se continueremo a inquinare l'ambiente e a bruciare combustibili fossili, presto le volte polari spariranno. Professor Hall, la nostra economia al momento è fragile almeno quanto l'ambiente. Dovrebbe tenerlo a mente prima di fare proclami sensazionalistici. Vede? L'ultimo blocco di ghiaccio che si è staccato aveva le dimensioni dello stato del Rhode Island. E c'è chi trova che questo è sensazionale. E così, magari qualcuno di voi l'ha visto, un film che è uscito vent'anni fa nel 2024, ma vorrei prima fare una piccola premessa, nel senso che tutte le volte che è andato in onda questo film un fisico è svenuto. Questo nel senso che se a voi è capitato di vederlo, la fisica che c'è all'interno del film in realtà è molto distorta, quindi è un film fantascientifico, se vogliamo in qualche modo molto fanta e poco scientifico, nel senso che è molto fantasioso per alcuni aspetti. Però perché ho ritenuto interessante iniziare con voi guardando questo estratto? Perché ci sono due punti, credo, interessanti. Il primo è che è un film del 2004 che racconta di una conferenza a livello internazionale sul clima e racconta di questi ostacoli, queste difficoltà che uno scienziato ha nella narrazione delle scienze del clima. Forse voi saprete che in questo momento c'è la COP29 in corso a Baku, che è la conferenza sul clima numero 29, in questo momento il tema che è principale in questi negoziati internazionali è il tema della finanza climatica, quindi questa in realtà è una conferenza delle parti particolarmente tecnica, particolarmente difficile. Non ci aspettiamo come società civile, io faccio parte anche dell'Italian Climate Network, in questo momento ci sono i delegati dell'associazione che sono lì presenti come osservatori, non ci aspettiamo dei grandissimi risultati purtroppo, è una conferenza delle parti particolarmente difficile da interpretare. Quando parliamo di finanza climatica parliamo di quei flussi finanziari che devono essere dedicati alle azioni di mitigazione e alle azioni di adattamento, oltre ai fondi che noi definiamo loss and damage, che servono sostanzialmente per aiutare quelle popolazioni, quei territori che sono già stati colpiti dal cambiamento climatico, nonostante non abbiano responsabilità storiche in termini di emissioni di gas serra. Questo è il tema principale, la prima settimana è stata ostica, è stata tecnica, adesso ci sarà la seconda settimana che sarà più politica che tecnica, vedremo come andrà a finire. Ma certamente quello che abbiamo visto nel film è un atteggiamento che possiamo ritrovare anche oggi, spesso e volentieri sono queste le osservazioni che vengono fatte, ma quanto costa reagire contro il cambiamento climatico? Quanto costa la transizione ecologica? Quanto può aver senso ragionare sul costo della transizione ecologica? Ha molto senso, di fatti ci sono dei grandi istituti come la Banca Centrale Europea, la Banca Mondiale, che fa proprio delle analisi sugli scenari futuri e ha pubblicato dei dati interessanti riguardo al costo della transizione ecologica anche in base a come questa transizione viene fatta, che è un aspetto fondamentale. Una transizione ecologica ordinata può avere un costo, una transizione ecologica disordinata e improvvisa può avere un altro costo, ma forse quello che dobbiamo imparare a fare è relativizzare, diciamo così, il costo della transizione ecologica rispetto al costo della non transizione ecologica. Quanto costa? Quanto costano gli impatti del cambiamento climatico? Questo è un aspetto fondamentale. Sta di fatto che questo cambiamento climatico facciamo un'incredibile fatica a percepirlo, proprio perché è un po' come se la percezione vincesse sempre sul dato. Quindi non è che riusciamo come esseri umani a comprenderlo in maniera diretta, semplice, immediata. No, facciamo molta fatica. Quindi partiamo e cerchiamo insieme di portarci a casa, metterci in tasca qualche concetto chiave che ci può aiutare poi da oggi in poi, spero, questa è la speranza, a interpretare in una maniera un attimo più corretta, se vogliamo, anche semplice, perché no, quello che ci sta succedendo intorno e quello che ci raccontano anche sulle scienze del clima. Partiamo da quello, il secondo punto interessante dell'estratto che vi ho fatto vedere riguardo a The Day After Tomorrow, il fatto di partire dalla corrente termoalina. La corrente termoalina è una corrente che riguarda i nostri mari e i nostri oceani. È fondamentale, si anima delle differenze di temperature e di pressione dell'oceano, perché l'acqua più fredda tendenzialmente è un'acqua più pesante, quindi tende a sprofondare rispetto a un'acqua più calda e questo già dà vita a un movimento. Poi abbiamo un altro aspetto che è fondamentale, quello della salinità, per cui l'acqua più salata tende anch'essa a sprofondare rispetto all'acqua dolce. Ecco che queste differenze, insieme al fatto che il nostro è un pianeta in rotazione, dà vita e alimenta questa corrente termoalina. A noi interessa in particolar modo la corrente del golfo, che è un vero e proprio nastro trasportatore di calore, che trasporta calore da latitudini equatoriali verso le nostre latitudini, verso il nostro continente. Se il nostro continente è molto diverso da quello che c'è dall'altra parte dell'oceano, è grazie alla corrente del golfo, che rende il nostro clima più umite. E questo è un qualcosa di fondamentale, quindi la domanda che ci dobbiamo fare è, ma questa corrente termoalina, questa corrente del golfo in particolare, è in salute, sì o no? Ecco, questo è un aspetto che in realtà è piuttosto veritiero, quello che è stato raccontato all'interno del film, nel senso che ci dobbiamo preoccupare del fatto che la corrente del golfo si possa a un certo punto bloccare. Questo è solo un riferimento bibliografico, perché quando vi parlo di questi argomenti mi piace anche farvi vedere che in realtà ci sono degli studi che sono estremamente rigorosi e approfonditi riguardo a questi temi. Questo tra l'altro è particolarmente recente, perché come vedete in alto a destra è segnalato la data di pubblicazione, quindi è stato pubblicato pochi mesi fa, nel 2024 e va a solidificare ancora di più quelle che sono le nostre conoscenze relative alla corrente termoalina e in particolar modo alla corrente del golfo. Che cos'è che dice questo studio? Un po' lo riuscite ad intuire anche dall'immagine che vedete a sinistra, alla sinistra di questo schermo. Nel momento in cui la corrente del golfo andrà ad interrompersi, il continente europeo subirebbe un abbassamento di temperatura piuttosto significativo. Si sentirà, si sentirà questo effetto, tant'è che ci sono gruppi di scienziati che si occupano diciamo in maniera specifica dell'analisi e dello studio di questi andamenti, perché le scienze del clima anche in questo caso vedono la sinergia di tanti esperti che si occupano di alcuni fenomeni in particolare ed è giusto che sia così, l'allarme è stato lanciato. Attenzione, perché questo nuovo studio molto rigoroso che parla dell'analisi di un segnale di preallerta dice che la corrente del golfo si fermerà, si bloccherà nei prossimi decenni, presumibilmente intorno a metà secolo, potrebbe farlo un pochino prima, con il 95% dell'affidabilità entro il 2095. Ragionandoci un po' capite che questa cosa ci può riguardare direttamente, riguarderà i nostri figli, riguarderà i nostri nipoti e quindi è un qualcosa di cui ci dobbiamo preoccupare in qualche modo, prendiamone atto, cerchiamo di utilizzare questi dati per capire come ci dobbiamo comportare. Nel momento in cui parte dell'Europa occidentale e settentrionale subiranno un drastico calo delle temperature dell'ordine dei 10-15 gradi, anche qualcosina di più. Soprattutto parlo di Regno Unito, penisola scandinava, una città come Bergen che è dipinta dal colore tendente all'azzurro, lo vedete senza stare ad analizzare nel dettaglio tutti i dati, questo crollo. I più attenti di voi potrebbero dirmi, guarda Serena, che i dati però vanno dal 1600 al 2000, perché? Perché noi climatologi alcune volte facciamo questo genere di simulazioni per avere anche una maggiore affidabilità del dato, ovvero utilizziamo i nostri modelli di simulazione sul passato, perché sul passato abbiamo molti dati registrati e quindi riusciamo a simulare quelli che sono, diciamo, tutta la fluidodinamica che riguarda non solo l'atmosfera e gli oceani con un indice di affidabilità molto alto. Quindi questo grafico praticamente risponde alla domanda ma se tra il 1750 e il 1850 noi avessimo interrotto la corrente del Golfo, un po' come se potessimo farlo come un rubinetto, che cosa sarebbe successo? E questo è il crollo delle temperature che andrà a riguardare effettivamente alcune città europee. Adesso qualcuno potrebbe dire, senti, già la situazione legata al cambiamento climatico è complessa e difficile, perché tu adesso parti nel descriverci un qualcosa che noi non ci aspettavamo tutto sommato e che è anche molto lontano dalla narrazione classica del cambiamento climatico, perché si parla tanto di riscaldamento globale e si parla tanto di cambiamenti climatici, alcuni molto conosciuti, alcuni meno, fusione dei ghiacci, innalzamento dei mari, desertificazione, perdita della biodiversità e ne abbiamo evidentemente molti altri. Perché io credo onestamente che questo sia il concetto più importante da tenere a mente, cioè quando parliamo di riscaldamento globale, di cambiamenti climatici, la cosa che ci deve in qualche modo, diciamo, preoccupare di più, ma che deve un po' risvegliare anche questa nostra determinazione nel voler contrastare questo genere di andamento è l'estremizzazione climatica. Non sto dicendo più caldo, più freddo, più secco, più piovoso, no, l'estremizzazione climatica, ovvero il fatto che il nostro clima, dopo lo vedremo, sta cambiando grazie a una forzante principale che determina l'aumento delle temperature e il cambiamento si esprime in un clima più estremo. Recentemente su Nature Communication è stato pubblicato un concetto che io credo sia un concetto veramente efficace, molto diretto, quello dei climate whiplash, ovvero dei colpi di frusta climatici. Il passaggio repentino da un estremo all'altro. Vogliamo fare un esempio? Sicità del 2022, una sicità che ci ha messo davvero in crisi, dopodiché è durata fino ad aprile 2023. Nel maggio 2023 l'Emilia Romagna ha subito il primo pesantissimo alluvione, da cui poi dopo, tra l'altro, ne abbiamo avuti anche diversi altri. Questo è un colpo di frusta climatico. Il fatto di passare da un estremo all'altro. Che cosa succede? Che il passaggio, che sta diventando sempre più frequente e quindi si riduce anche il tempo che c'è tra un estremo all'altro, riduce di netto la nostra capacità di adattamento. E quindi questo è un qualcosa per cui noi dobbiamo in qualche modo agire, quindi lavorare in prevenzione e in adattamento per ridurre l'impatto di un potenziale colpo di frusta climatico. È su questo che noi dobbiamo lavorare come società, è su questo che noi dobbiamo lavorare cercando di rendere i nostri territori, si dice, resilienti, quindi più resistenti, meno esposti e meno vulnerabili a questo tipo di scenario. L'ultima cosa che vi dico riguardo all'indebolimento della, noi la chiamiamo AMOC, della corrente del Golfo, è il fatto che noi come Mediterraneo sentiremmo meno, comunque sentiremo meno l'influenza di questo indebolimento, ma ci ritroveremo tra un continente molto più freddo e un continente estremamente caldo. Anche seguendo le notizie sui TG o leggendo online oppure sui quotidiani, sulle riviste, forse avrete intuito che il problema più grosso è proprio quando due masse d'aria diverse si incontrano, una molto fredda e una molto calda. Queste differenze di temperatura danno vita a una maggior, alimentano, a una maggior intensità e quindi a una maggior estremizzazione dei fenomeni meteorologici che poi colpiscono il nostro territorio. Quindi è su questo che dobbiamo lavorare, perché l'area del Mediterraneo si ritroverà tra questi due estremi e quindi le piogge diventeranno più intense, più impattanti, così come anche i lunghi periodi invece in cui le piogge si farà fatica a vederle. Estremizzazione climatica è proprio questo, quindi facciamo un po' il punto, il fatto che comunque il clima sulla Terra è un clima che sta cambiando a causa del riscaldamento atmosferico, questo cambiamento fa sì che aumentino in frequenza i fenomeni intensi, addirittura estremi, dove con fenomeni intensi noi intediamo dei fenomeni potenzialmente calamitosi, sono degli fenomeni che possono avere degli impatti su di noi, sulle infrastrutture, i fenomeni estremi escono un po' fuori dalla statistica climatica. Quello che è importante sapere, anche per orientarsi, è la differenza tra meteo e clima, è una differenza su cui spesso e volentieri si fa confusione, ma se vogliamo interpretare bene questi fenomeni dobbiamo fare chiarezza. La meteorologia è quella materia che a tutti noi restituisce le previsioni del tempo, lavora sul breve termine, la climatologia è quella materia che invece lavora sul lungo termine e ci spiega una tendenza. Quindi la meteorologia lavora su pochi giorni in termini di intervalli temporali, la climatologia lavora su decadi, su anni e in qualche caso lavora anche, diciamo, sui secoli. Il fatto che la nostra atmosfera si stia scaldando e quindi il nostro clima in generale si stia modificando, fa sì che anche gli eventi meteorologici stiano subendo delle modifiche, proprio in termini di frequenze, in termini di intensità. Quindi un grado in termini di febbre del pianeta ci può sembrare poco, ma in realtà equivale ad avere un milione di testate nucleari esplose in atmosfere in termini di energia. Quindi avere questa quantità di energia in atmosfera fa sì che poi il nostro sistema climatico atmosferico si comporti un po' come stiamo vedendo anche purtroppo già oggi. Quindi direi che il cambiamento climatico non è un tema che è associabile al concetto di futuro, ma è un tema assolutamente presente e così va trattato. Perché è importante quindi fare una differenza tra meteorologia e climatologia? Perché non conoscere queste due materie ci espone a qualche inciampo in termini di interpretazione. Probabilmente vi sarà capitato di sentire ma come mai fa freddo a maggio? Dov'è finito il riscaldamento globale? Ma come mai nevica fuori stagione? Non c'era un aumento delle temperature? E quindi questa differenza in qualche modo ci aiuta a capire che un fenomeno meteorologico non può stabilire in nessun modo una tendenza climatica. Un fenomeno meteorologico è qualcosa che accade oggi, che fluttua nel tempo in maniera molto rapida. Non si può, scusate io credo di aver lasciato qualcosa acceso ma adesso facciamo così, così non abbiamo più problemi. Un fenomeno meteorologico non ci descrive quella che può essere una tendenza climatica. Certamente quello che stiamo osservando in termini di frequenza dei fenomeni meteorologici fa sì che questo, diciamo, aumento in frequenza si inserisca all'interno di una tendenza climatica che ormai negli ultimi decenni è estremamente evidente e conclamata. Quindi è così che dobbiamo cercare di interpretare. Differenza tra meteo e clima, differenza anche tra globale e locale. Può sembrare banale ma alcune volte facciamo fatica a capire che un riscaldamento che noi possiamo avere su scala globale non necessariamente si esplica o si manifesta su scala locale come potremmo immaginare. La brutta notizia è che il Mediterraneo è un hotspot del riscaldamento e quindi tendenzialmente sulle aree del pianeta è un'area che è particolarmente vulnerabile a questo processo di riscaldamento, anche un po' per come è fatto in realtà il Mediterraneo. Vogliamo dare una definizione di riscaldamento globale? Abbiamo capito che su estremizzazione climatica dobbiamo puntare l'attenzione ma certamente cerchiamo di capirne la causa. Cos'è che abbiamo cambiato? Che rotella abbiamo modificato e girato nel nostro sistema climatico che poi ha avuto come conseguenza l'estremizzazione climatica che tenderà a peggiorare nei prossimi anni e nei prossimi decenni. Questa è una definizione, se vogliamo, visiva di quello che è il riscaldamento globale. Quindi questo processo di riscaldamento della nostra atmosfera sul pianeta Terra, possiamo rivederlo se volete. In particolare questo è un video della NASA che mostra le anomalie di temperatura. Le anomalie negative sono quelle dipinte in azzurro o in blu, le anomalie positive sono quelle dipinte in giallo, arancione o rosso acceso. I più attenti di voi avranno già notato che a partire dal 1970 le anomalie negative hanno iniziato a lasciare posto alle anomalie positive e quindi sostanzialmente hanno il nostro pianeta iniziato a dipingersi di rosso. Potremmo magari fare qualche osservazione in più, per esempio notate che ci sono i due emisferi, quello nord e sud, si sono scaldati in modo diverso. Questo ha diversi motivi, nel senso che per esempio abbiamo una maggior concentrazione di emissioni di gas clima alteranti nell'emisfero nord piuttosto che nell'emisfero sud. Abbiamo una maggior distribuzione delle terre emerse nell'emisfero nord piuttosto che nell'emisfero sud e questo fa la differenza perché io ce ne sono i nostri principali alleati in termini di mitigazione del riscaldamento globale. E come vi dicevo l'area del Mediterraneo e dell'Europa purtroppo è una zona che è particolarmente vulnerabile a questo processo di riscaldamento atmosferico. E questo riscaldamento dell'atmosfera che poi in qualche modo ha dato vita e innescato tutti quei cambiamenti climatici che sono tanti e sono diversi, li abbiamo già menzionati prima. Se volete possiamo analizzare queste anomalie di temperatura anche con la cosiddetta spirale climatica. Dobbiamo puntare l'attenzione sulla linea verde che è quella relativa alle anomalie e vedere anno dopo anno, mese dopo mese, come le anomalie si sono effettivamente comportate. Vedete che all'inizio rispetto a questa media climatica calcolata tra il 1950 e il 1980, le linee tendevano a stare all'interno di una circonferenza, diciamo di una circonferenza con un diametro più piccolo. Dopodiché questa spirale si è aperta e in qualche modo ha sfondato quelli che sono potremmo quasi dire gli argini del nostro sistema climatico in equilibrio e ha superato la soglia del più uno in termini di febbre del pianeta. E questo è un qualcosa che ci deve comunque dire qualcosa, ci deve lasciare un segnale. Qualcuno di voi forse avrà sentito che è stato emesso un comunicato da parte dell'organizzazione meteorologica mondiale, per cui il 2024 sarà l'anno più caldo di sempre. Qualcuno potrebbe dire, ma se non è ancora finito il 2024, come fate a dirlo? Questo perché i primi dieci mesi sono stati talmente caldi che le anomalie del mese di novembre e del mese di dicembre, praticamente con certezza non riusciranno a far riportare l'anomalia al di sotto del grado e mezzo. Quindi il 2024 non solo sarà l'anno più caldo, ma con tutta probabilità andrà a sfondare la soglia del grado e mezzo in termini di febbre del pianeta. Questo è un aspetto sicuramente importante, perché va a superare una di quelle soglie che è contenuta all'interno dell'Accordo di Parigi. Quando si parla degli accordi internazionali, si parla sempre di non superare il grado e mezzo o i due gradi in termini di febbre del pianeta. Queste due soglie da dove arrivano? Dai report che la comunità scientifica a livello internazionale pubblica. Il più importante è l'assessment report dell'APCC, che è il pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, che potremmo in qualche modo considerare la rassegna scientifica più rigorosa e accreditata per quanto riguarda le scienze sul clima. Ebbene, queste due soglie la scienza ci sta dicendo in tutti i modi e in tutte le maniere di non superarle, proprio perché l'estremizzazione climatica a cui andremo incontro superandole sarà sempre più difficile da sopportare. Un po' come dire ogni decimo di grado è importante, ma cerchiamo di non superare questa soglia. Bene, ci ritroviamo nel 2024 che l'anomalia sarà intorno al grado e mezzo, quindi che cosa facciamo? Innanzitutto proviamo a interpretare correttamente questa soglia. Il fatto che un anno sia eccezionalmente caldo e superi la soglia non vuol dire che abbiamo irrimediabilmente fallito in termini di percorso di mitigazione del cambiamento climatico. È un bruttissimo segno, stiamo andando nella direzione sbagliata, ma le soglie che sono inserite all'interno dei report dell'IPCC e dell'Accordo di Parigi sono delle soglie che noi diciamo sono calcolate su media mobile, quindi servono diversi anni di superamento del grado e mezzo prima di poter dire che quella soglia è spacciata. Addirittura i scenari quelli più etnistici dell'IPCC prevedono un superamento di questa soglia entro fine secolo per qualche anno per poi far rientrare il nostro sistema climatico in una sorta di equilibrio. Vediamolo meglio. Fino adesso io vi ho parlato di passato, non di futuro. Quindi quello che vi ho fatto vedere sono, diciamo, dei dati registrati di temperatura del nostro pianeta. Adesso invece proviamo a guardare oltre, quindi andiamo verso il futuro, verso fine secolo. E vedete che di fatti a un certo punto questo schema si divide in cinque. Questi sono i cinque scenari che dipendono dalla quantità di emissioni che noi produrremo nei prossimi anni e nei prossimi decenni. Lo scenario più ottimistico è quello very low, quindi di, diciamo, virtuoso abbassamento delle emissioni di gas climaalteranti. In questo scenario c'è un aumento di temperatura comunque perché il nostro sistema climatico ha un'inerzia. Quindi se fossimo tutti bravi e domani smettessimo di emettere gas climaalteranti, in ogni caso il nostro sistema climatico, per ricevere questo input positivo da parte nostra, ci metterebbe un po'. Quindi continuerebbe a scaldarsi per poi però rientrare in equilibrio. Gli altri scenari invece sono degli scenari a emissioni più elevate. In che direzione stiamo andando noi? Attualmente con i cosiddetti NDCs, che sono i contributi determinati a livello nazionale, che vengono proprio anche in questi giorni, anche in queste ore, dibattuti durante le conferenze delle parti, che avvengono sempre a novembre, ma in realtà ci sono poi tutti i negoziati intermedi durante l'anno di cui si parla veramente poco a livello di stampa, questi NDCs vengono discussi. Nazione per nazione dice io riesco a fare questo, io ho questo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti. Ebbene, con i contributi e gli impegni di ciascuna nazione attualmente stiamo andando verso un pianeta che entro fine secolo sarà più caldo di tre gradi. Quindi, come vi dicevo, la direzione direi che non è quella giusta. Sotto questo grafico c'è una cosa interessante. È interessante questo grafico perché per la prima volta crea un legame tra un dato che potremmo definire freddo, anche se sembra una contraddizione, che è un dato di temperatura. Noi facciamo fatica effettivamente a capire cosa ci sia di grave in tutto questo, no? Perché vediamo una serie di colori, sì, che diventano tendenti al rosso, al rosso acceso al viola, ma non è che ci riusciamo a vedere molto di più. Cosa significa questo grafico? Lo sforzo è stato quello di legare quello che succede alla nostra atmosfera a una questione generazionale. Tutto quello che muove le azioni di contrasto al cambiamento climatico hanno come fondamentale principio il principio di equità intergenerazionale. Quindi noi perché dobbiamo fare tutto questo? Perché ci dobbiamo preoccupare? Ci dobbiamo preoccupare perché è un tema presente, ma ci dovremmo preoccupare ancora di più perché in realtà le giovani generazioni, le future generazioni vivranno tutto questo in maniera molto più intensa, in maniera molto più estrema. Per cui la NASA tra l'altro ha dato l'opportunità di inserire i propri dati all'interno di questo grafico e all'interno di questo grafico vedete mio padre, che si chiama Claudio, che è del 54, che ha vissuto la sua vita in un clima che comunque non aveva ancora assaggiato un aumento di temperatura così repentino. Poi ci sono io, che sono dell'84 e poi c'è mio figlio, che è del 2017, che sostanzialmente vivrà tutta la sua vita in un pianeta più caldo e quindi in un pianeta più estremo. Ricordiamoci sempre, è un qualcosa che avviene a livello globale ma che su scala locale può avere diverse conseguenze, addirittura rallentando la corrente del golfo e manifestandosi con un abbassamento delle temperature. Questo è un qualcosa di importante che ci aiuta a capire come si manifesta il cambiamento climatico intorno a noi. Altrimenti se non ci portiamo a casa questo concetto e questa consapevolezza, tutte le volte che sentiremo parlare di cambiamento climatico e magari accadrà di fianco a noi qualcosa che non riconosciamo come un qualcosa di legato al riscaldamento dell'atmosfera, ci chiederemo il perché. Nulla di male a farsi venire dei dubbi, però dobbiamo cercare di avvicinarci alla scienza e di avere dei dubbi con metodo. Noi diciamo così, la scienza si alimenta di dubbi, la scienza non restituisce certezze, la scienza va avanti ed evolve grazie ai dubbi, ma questi dubbi devono essere dei dubbi metodici, non devono essere dei dubbi che si legano a credenze, a opinioni non fondate e via dicendo, perché questo ci porta a non capire e a non interpretare correttamente quello che sta accadendo. Ho inserito questa slide, mi perdonerete se è in inglese, ma credo che comunque sia importante da osservare insieme, perché nella prima colonna potete osservare tutto quello che potrebbe voler dire estremizzazione climatica. Il primo rischio è quello legato agli incendi, qualcuno dirà, ma gli incendi spesso e volentieri sono dolosi, non sono legati a un'ondata di caldo, a una siccità, non è che l'incendio si causa così, infatti la maggior parte degli incendi che si scatenano e che colpiscono il nostro territorio sono degli incendi di natura dolosa, purtroppo, mi viene da dire, è amara questa cosa. Il tema è che l'incendio tende ad avere un impatto enormemente più pesante nel momento in cui si ritrova un territorio che per esempio è siccitoso, dove la vegetazione è in stress, perché è secca. Questo è quello che sta accadendo sempre più spesso, per esempio, in una regione come la Sicilia, che adesso è stata colpita da piogge estreme, ma ha vissuto dei mesi difficilissimi per una grave siccità che ha colpito la regione. C'è la siccità, ci sono le ondate di caldo, ci sono le piogge che sono intense o addirittura estreme, c'è l'innalzamento dei mari e ci sono le tempeste. Nella seconda colonna vedete come il nostro territorio reagisce di fronte a questi fenomeni, quindi abbiamo deforestazione, desertificazione, abbiamo un problema sulla risorsa acqua, abbiamo un problema sulla ricchezza dei nostri suoli, abbiamo un problema in termini di danni delle nostre infrastrutture, abbiamo un problema di stress della nostra vegetazione, erosione costiera e anche quella che viene definita il cuneo salino, quando l'acqua, sono sicura che comunque voi abbiate contezza di questa cosa, quando l'acqua salata tende ad arrivare nell'entroterra anche dove non dovrebbe spingersi. La terza colonna diventa molto interessante per il tema di oggi, quali possono essere i determinanti legati alla salute, cioè tutto questo, che conseguenze può avere. Allora ci sono delle conseguenze che abbiamo imparato a conoscere, io non so voi ma quando ho visto le immagini di Valencia, nonostante ormai sia da due decenni che mi occupo di questo tema, io faccio ancora fatica ad accettarle, onestamente le ho trovate proprio fuori da quella che poteva essere una qualsiasi mia immaginazione, no? La devastazione che ha avuto il territorio per una pioggia che è stata estremamente eccezionale, è stata di una portata che era davvero difficile da immaginare. Ma ci sono tanti aspetti, oltre all'impatto diretto sul territorio e quindi al rischio fisico a cui noi siamo esposti nel momento in cui c'è un fenomeno meteoclimatico intenso addirittura estremo. I determinanti possono essere legati all'inquinamento, alla qualità dell'aria, all'aumento delle temperature, alla contaminazione dell'acqua, all'abbassamento del livello di igiene, quindi con conseguenti problemi sanitari, alla migrazione, alla sicurezza alimentare, al problema dell'espansione, alla frammentazione degli habitat e a tutti i problemi diciamo legati a questa frammentazione e riduzione degli habitat naturali. E poi nell'ultima colonna cosa vediamo? Quello che è il più stretto legame tra clima e salute, quelle che possono essere le conseguenze dirette sulla salute, con tutto che ancora prima della pandemia il cambiamento climatico è stato definito su Lancet, che comunque è una rivista scientifica più che accreditata che si occupa di questi temi, ha definito il cambiamento climatico come la principale minaccia per la salvaguardia della salute della specie umana del ventunesimo secolo. Questo perché ci sono tanti aspetti che certamente riguardano i problemi respiratori, cardiovascolari, il problema delle malattie infettive, la malnutrizione a causa dell'insicurezza alimentare, tutte le malattie legate alle ondate di calore. Questo è un aspetto che è fondamentale da sottolineare. Sapete quante volte mi capita di sentire anche gli scherzi tipo ah sì, non uscite nelle ore più calde, bevete tanta acqua. È vero, sì, sembra quasi uno scherzo sentire ancora ripetere questa cosa, ma sapete quanto è importante? Sapete che le ondate di caldo sono il fenomeno che a livello meteoclimatico riesce a causare il maggior numero di perdite di vita umane con morte prematura? Questo perché le fasce più vulnerabili, gli anziani, i bambini, chi ha problemi cardiovascolari, nel momento in cui si ritrova a vivere un'ondata di caldo in cui le temperature pomeridiane per diversi giorni superano i 35 gradi, arrivando magari anche a 40-45 gradi, questo causa uno stress al nostro corpo che è davvero difficile da sopportare. Considerate che per esempio in Sicilia abbiamo avuto delle ondate di caldo nel recente passato, negli ultimi due stati, dove le temperature durante il pomeriggio arrivavano a 43-45 gradi, temperature massime. Il problema è che durante la notte la temperatura minima non riusciva a scendere sotto i 35. Allora è abbastanza intuitivo immaginare che magari se si sta bene, se si è in forma, si entra un po' in una situazione di affaticamento, ma se si hanno dei problemi di salute e magari non si hanno degli strumenti di adattamento come un condizionatore, il problema inizia a farsi davvero serio. E quindi questo va comunicato alla cittadinanza in maniera corretta, senza troppe sfumature e senza troppi scherzi. Nel momento in cui ci si ritrova di fronte a un'ondata di caldo, noi dobbiamo lavorare molto bene in termini di protezione civile per far sì che la cittadinanza, tutte e soprattutto le fasce più vulnerabili, abbiano la possibilità di sopportarla. E questo è uno scenario a cui noi in generale stiamo andando incontro. In tutto questo abbiamo parlato di diversi concetti che sono importanti. La differenza tra meteo e clima, che spero sia chiara, ma eventualmente dopo se ci fosse qualche domanda magari la proviamo a esplicitare ancora di più, ancora meglio. La differenza tra globale e locale, che lo so che può sembrare banale, ma io vi invito a ragionarci sopra. La differenza tra estremizzazione climatica, cambiamento climatico e riscaldamento globale. Vediamola come il riscaldamento globale a livello globale causa i cambiamenti climatici. Tra i cambiamenti climatici c'è anche l'estremizzazione climatica, che è quella che dicevamo ci preoccupa di più. Benissimo. Nel titolo c'era scritto del mio intervento. Parliamo dei problemi, ma cerchiamo di parlare anche delle soluzioni. Credo che questo sia fondamentale. Allora, prima di tutto, che tipo di approccio dobbiamo avere noi a tutto questo tema? Perché finora vi ho parlato solo di cose brutte, me ne rendo conto. Purtroppo è una cosa che mi capita abbastanza spesso, però ambasciato non porta pena, come si dice. L'approccio. Io credo che l'approccio migliore che si possa avere in questi casi è quello di cambiare un po' la visione e riuscire in qualche modo a trovare la forza dentro di noi di capire che la scienza ci sta dando tantissimi strumenti di reazione. Tutti i dati che la scienza mette a disposizione, mi viene da dire quasi quotidianamente, perché ormai la scienza del clima e anche le scienze meteorologiche si sono evolute tantissimo negli ultimi anni e negli ultimi decenni, pubblicano dati costantemente che ci aiutano a riempire sempre di più questo puzzle del nostro sistema Terra, che è un sistema complesso e con complesso non intendo difficile. In fisica è complesso ciò che è formato da tanti sistemi che sono intimamente legati tra di loro e che non sempre interagiscono tra di loro in modo lineare. Quindi facciamo un po' fatica. Per esempio, la fusione dei ghiacci indebolisce la corrente del Golfo, che si indebolisce a sua volta, si scusate, si indebolisce la corrente del Golfo che va a determinare un cambio di clima sul nostro continente europeo. Questo è difficile per noi da immaginare. È come se ci fosse un rapporto causa-effetto non lineare. Ecco, in tutta questa complessità noi abbiamo sempre più dati che ci possono aiutare a costruire delle reazioni di contrasto. Quali sono le reazioni di contrasto? Allora noi ci immaginiamo due macro sistemi di azioni. Le azioni di mitigazione e le azioni di adattamento. In realtà un po' le abbiamo già viste, però facciamo ancora più ordine. Cosa sono le azioni di mitigazione? Le azioni di mitigazione sono tutte quelle azioni che hanno come primario obiettivo la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. È un po' la nostra, chiamiamola arma, arma di attacco nei confronti del riscaldamento globale. Proviamo a ridurre le emissioni fino ad azzerarle e deceleriamo il processo di riscaldamento dell'atmosfera terrestre. Le azioni di adattamento sono la nostra difesa. Mettiamo in campo delle azioni di adattamento che vadano a ridurre l'impatto del cambiamento climatico. Quale è più importante? Mitigazione e adattamento tutte e due. Perché con l'adattamento, senza la mitigazione, nei prossimi decenni non riusciremo più a fare abbastanza adattamento e abbastanza prevenzione, perché in un clima sempre più estremo è addirittura difficile adattarsi. Con la mitigazione senza adattamento non lavoreremo adeguatamente per la riduzione del rischio meteoclimatico. Quando si parla di rischio si parla sempre della composizione tra pericolosità di un evento, vulnerabilità ed esposizione. Per ridurre il rischio dunque dobbiamo cercare di abbassare il livello di pericolosità, cercare di ridurre il livello di esposizione della popolazione e delle infrastrutture e cercare di diminuire la vulnerabilità del nostro territorio. Ricordando che purtroppo in Italia abbiamo un problema, nel senso che forse qualcuno di voi saprà, che abbiamo un problema di dissesto idrogeologico, per cui più del 90% dei comuni italiani hanno comunque aree che sono riconosciute a livello nazionale come aree a rischio. Benissimo, io direi che il tempo rimasto non è tantissimo, però vorrei introdurvi brevemente un concetto, poi come ho detto anche all'organizzazione io questo materiale lo lascerò a disposizione, ci sono tutti i link, quindi magari mando anche una bibliografia completa, per cui se qualcuno poi volesse magari riguardarsi le cose con calma e perché no approfondire qualcosa avrete tutto a disposizione. Gli ultimi 5 minuti, perché sono proprio 5, li voglio legare al tema del false balance. Cos'è questo false balance? Allora, com'è posizionata la comunità scientifica a livello internazionale sui temi del cambiamento climatico. La correlazione, quindi il legame, tra l'aumento delle emissioni di gas serra e l'aumento delle temperature è stato definito dall'ultimo report delle Nazioni Unite, dell'IPCC, quindi del pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, come inequivocabile. La scienza di solito non si esprime così, nel senso che noi ci esprimiamo sempre con il concetto di probabilità, magari probabilità molto elevata, ma la necessità di toglierci di dosso questo dubbio che in realtà il riscaldamento globale che stiamo osservando in questi decenni è di origine antropica, quindi è causata dall'uomo. La necessità di comunicarlo con forza per allontanarci dai tanti dubbi che la comunicazione in questo momento ci, la comunicazione mediatica a cui la comunicazione mediatica ci espone, ha spinto proprio a definire questa correlazione come inequivocabile. All'interno della comunità scientifica internazionale non vedetela come un ente astratto che chissà che cos'è, in realtà è un qualcosa di estremamente concreto, sono gruppi che lavorano in maniera indipendente in tutto il mondo continuando a fare ricerca e sottoponendo i propri risultati a quella che viene detta un'analisi indipendente di peer review, quindi c'è un continuo lavoro di confronto e dibattito, il dibattito nella scienza non finisce mai, ma sulla correlazione tra l'aumento delle temperature e l'aumento delle emissioni di gas serra c'è consenso, si è raggiunto ormai il consenso. Il tema è che se all'interno della comunità scientifica internazionale abbiamo raggiunto un consenso e non c'è dibattito su questo, c'è su molti aspetti, a livello mediatico continuiamo a osservarlo questo dibattito, non c'è corrispondenza, la comunità scientifica almeno su questo non dibatte più, ma a livello mediatico continuiamo a vedere il climatologo contro il negazionista. Quindi immaginando che non tutta la popolazione italiana per fortuna sia fatta di climatologi o di climatologhe o di esperti dell'argomento, nel momento in cui accendo la tv e vedo un climatologo o una climatologa contro un negazionista, la prima cosa che mi viene da dire è che non sono d'accordo neanche loro, perché dovrei preoccuparmene io? E questo è un problema, online e anche sulla carta stampata continuiamo a vedere titoli di questo tipo, con Franco Battaglia, in questo caso l'autore che è un noto negazionista del cambiamento climatico, il global warming, colossale falso storico, Antonino Zichichi, il cambiamento climatico dipende dalle attività umane per il 5%, non confondiabolo con l'inquinamento, e qui facciamo tutto un po' di confusione, studia il cambiamento climatico a Greta, non è legato alle attività umane, qua ci sarebbe da parlarne per ore e per ore, perché qua in questo caso si cita Greta un po' cercando di utilizzare questo concetto dell'identità, cioè io non parlo del problema ma parlo di una persona, quindi questo è un qualcosa che riesce a depistare molto quello che è la nostra percezione, e qua, vabbè, un titolo così, io l'ho letto e ci sono rimasto un po', mi sono fatta un sacco di domande, panna aranci e verdura marce, pranzi di gala della eco-rivoluzione, come viene raccontata oggi la eco-rivoluzione? Con quale livello di antipatia? Perché una persona che decide di utilizzare un'app per cercare di recuperare il cibo avanzato per non sprecarlo deve essere deriso in questo modo, non potrebbe essere qualcosa di positivo? Non potrebbe essere un atteggiamento che magari rende sostegno, credo che siamo d'accordo tutti sul fatto che sprecare cibo non sia un atteggiamento virtuoso? Perché la transizione ecologica viene descritta come un bagno di sangue? Perché la transizione ecologica, e qua forse è anche un po' colpa di chi come me si occupa di comunicazione, perché viene vista sempre in termini di rinuncia e non di aumento della nostra qualità della vita e di sicurezza? Perché non riusciamo a mettere la sicurezza al primo posto? Perché non capiamo che ridurre il rischio può salvare vite umane, può farci stare meglio? Perché non è la nostra priorità? Ci sono tantissimi studi in letteratura che però vanno al di là di quella che è la mia diretta competenza, perché io comunque mi occupo di fisica del clima, non di sociologia e tantomeno di psicologia, però ci sarebbe tanto da dire su questo. Perché questo è uno dei libri più venduti, La grande bugia verde? Dove qua tra l'altro si fa, adesso ormai lo sappiamo tutti, si fa confusione tra meteo e clima, tra globale e locale. Perché un periodo freddo e particolarmente piovoso a giugno, come è stato lo scorso giugno, ci fa dimenticare o dubitare del riscaldamento globale? Perché accettiamo un titolo del genere con così tanto piacere? Perché ci dà fastidio effettivamente il tema del cambiamento climatico? È un qualcosa che tocca anche le nostre corde più emotive, di responsabilità. E quindi ha così tanto successo questa narrazione negazionista, anche in questo caso trovate tutti i link, che parte dal dire il riscaldamento globale non esiste, con tutte poi le conseguenze a livello di narrazione, il riscaldamento globale non è causato dall'attività umane, il riscaldamento e i cambiamenti climatici tutto sommato non sono così male, in ogni caso tanto le soluzioni non funzionano, fino ad arrivare che comunque tanto le scienze del clima non sono affidabili. Ma se non riuscite a fare una previsione del tempo, come potete sapere come sarà il clima nel 2100? Questa è una domanda per esempio che mi è stata fatta spessissimo. Peccato che adesso sappiamo che tra meteorologia e clima ci sono importanti differenze che lavorano in modo molto diverso e quindi le risposte che ci possiamo aspettare da queste due materie sono altrettanto diverse e hanno diversi obiettivi, sono molto utili anche in termini di sicurezza, ma ci descrivono il nostro pianeta e la nostra atmosfera in modo diverso. La seconda parte tutta dedicata alle fake news sul clima, se qualcuno volesse, vedete i fumetti non perché io sia matta, ma perché io e Luca Perri che è un mio collega astrofisico abbiamo scritto un libro su queste fake news come la Groenlandia si chiama così perché è terra verde, perché in realtà quando i vichinghi sono andati in Groenlandia la Groenlandia non era di ghiaccio ma era tutta vegetazione rigogliosa e bellissima, quindi il clima è sempre cambiato, non è che dobbiamo allarmarci, a Nibel è riuscito a attraversare le Alpi con 10.000 elefanti africani. Io chiedendo scusa per le missioni che ho causato per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ho chiesto all'intelligenza artificiale di immaginare, questo è un libro di scuola, 10.000 elefanti che attraversavano le Alpi e questa è l'immagine che mi ha restituito, ok? Alcune volte il negazionismo regala anche qualche sorriso e in questo libro che si chiama Pinguini all'Equatore io e Luca cerchiamo di smontare a colpi di scienza quelle che sono importanti bufale che sono state portate anche in Senato da premi Nobel, quindi direi che da discuterne ce n'è. Forse la slide quella più importante è questa, stavamo meglio da ignoranti? Siamo sicuri? Forse dovremmo cambiare un po' approccio, non portare avanti solo una transizione ecologica ma soprattutto una transizione culturale e capire che in questo caso la scienza non ci sta solo allarmando su un problema ma ci sta dando degli importanti strumenti per costruire un futuro anche nell'immediato che possa definirsi più sostenibile e sicuro. Io vi ringrazio molto per l'attenzione che mi avete dedicato. Bene Serena, allora grazie abbiamo qualche minuto per ascoltare qualche vostra domanda, io ne avrei tante ma non te le porrò però ascoltiamo volentieri qualche domanda dal pubblico. Prego, arriva il microfono qua sulla sinistra. Complimenti alla dottoressa. Credo che sia la prima volta che ascoltiamo un fisico, una fisica climatologa ma d'altra parte la fondazione Zoe ci è abituata a dare sempre il meglio in questo campo e in altri campi. Io ieri pomeriggio sono stato anche nello stabilimento, anche lì è stato un bellissimo incontro. Ci sono tantissime domande che dovrei fare ma io non posso. Il principio dell'equità generazionale, credo che lei si riferisse al rapporto Brunwald del primo ministro norvegese del 1987, sono passati un po' di anni. Io qua me lo sono un po' trascritto perché sa la memoria quella che è e che comunque doveva garantire alle generazioni future, cioè doveva fare sì che la generazione attuale potesse avere tutto quello che deve avere senza inficiare il futuro. Quindi parte dall'adesso per andare nel futuro. Quello che stiamo vedendo, adesso io non mi addentro in tutte quelle cose bellissime e poi studieremo poi in futuro, ma la situazione che è stata illustrata anche dal professor Carraro ieri sera, anche l'aspetto molto economico che in questo momento vede una certa parte del mondo, perché qui stiamo parlando del mondo ovviamente, che è particolarmente penalizzato da certe scelte, non sto a entrare nel dire che siano giuste o sbagliate, non è questo il coso, ma che sono penalizzanti nei confronti della nostra industria. Anche la stessa presidente di Confindustria Vicenza, Laura Dallavecchia, ha espresso recentemente questa perplessità, questi timori per come va avanti il tipo di penalizzazione che naturalmente vede altri paesi, Cina, India, Russia, andare per la loro strada, nucleare, carbone eccetera eccetera, e noi siamo penalizzati. E vabbè, questo è un punto. Il secondo punto è, e questo è un piccolo dissenso tra me e lei, è quando la definizione di scienza, no? Che va avanti con i dubbi. e questo mi trova del tutto favorevole. Sono perfettamente d'accordo, perché io sono un chimico e ho fatto tutta la mia carriera nella ricerca. Però poi dice che chi non è d'accordo su certe cose lo definisce negazionista. Purtroppo, per gente della mia età, il termine negazionista è legato esclusivamente a dei fatti criminosi che sono accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Adesso non vorrei che qualcuno, che ha titolo o non titolo, lei ha anche parlato di un premio Nobel, che può criticare certe cose, venga immediatamente passato nella colonna dei cattivi chiamati negazionisti. Questo mi sembra eccessivo. Grazie. Grazie. Ne raccogliamo un'altra? Se sei d'accordo, Serena. Ecco qua, prego. Sì, ecco, chiediamo anche di essere estremamente sintetici perché abbiamo pochi minuti. Prego. Sì, cercherò di essere sintetici in modo di poter dare spazio a tutti quanti. Niente, volevo dire, purtroppo quando uno fa qualcosa o denuncia qualcosa, fatalmente deve essere pronto a trovarsi addosso non soltanto quelli che sono contrari, ma anche quelli che non farebbero niente in ogni caso, oppure quelli che non vorrebbero essere in ogni caso disturbati. Detto questo io vorrei chiedere, alla luce di questi cambiamenti climatici, potrebbe succedere che anche la meteorologia venga inficiata nella sua capacità di fare delle previsioni o dei preallarmi? E poi vorrei chiedere anche, sarebbe sufficiente che fosse solo una parte, diciamo, del mondo cambiasse virtuosamente le proprie abitudini, no? E diciamo la parte, diciamo, più sviluppata, no? E un po' più lentamente, oppure per niente la parte meno sviluppata. Bene, grazie. Serena. Allora, intanto grazie perché sono tutte domande che sono interessanti e poi danno forse l'opportunità di toccare alcuni punti che sono importanti. Allora, partirei dall'aspetto economico, che sicuramente è un aspetto importante, perché quello che noi occorrerebbe cercare di fare è costruire proprio delle strategie che riducano gli ischi climatici, ma che in qualche modo facciano emergere anche le opportunità, da dove possibile. Ovviamente è un argomento che pretenderebbe ore di discussione e queste non li abbiamo. Ma detto questo, io, forse l'unico aspetto su cui mi sento, diciamo, di intervenire, anche se in pochissimo tempo, è sul fatto della, diciamo, più tempo aspettiamo e più sarà difficile ridurre il rischio e creare delle opportunità. Quindi quando io parlavo prima di strategia e di transizione ecologica ordinata e disordinata, è proprio a questo che mi riferivo. Il tema è che sulla transizione ecologica e sulla necessità della transizione ecologica noi stiamo parlando da decenni. Quindi se si parla, per esempio, di cambio delle strategie energetiche piuttosto che di aumento dell'efficienza energetica in Italia, queste non sono delle grandi novità. Possono apparire delle novità, ma non lo sono. Quindi anche in un'ottica di business e di management del rischio, perché esiste tutto un settore che si occupa della gestione di questo rischio, quello che occorrerebbe fare, e che forse dovevamo fare un po' prima, è innanzitutto riconoscere il rischio, ci sono anche le linee di guida europee che vanno a, in qualche modo, proprio schematizzare quelli che sono i rischi fisici, i rischi finanziari e i rischi da transizione e portare avanti una transizione, anche nel proprio settore specifico, che sia una transizione ordinata e quindi che permetta il cambiamento. Se si fa finta che il problema non esista e si va avanti ancora nel tempo, quella transizione da ordinata si trasforma in disordinata e quindi diventa difficile e sempre più difficile da recepire. Questo è il problema in cui ci ritroviamo in questo momento, per cui alcuni settori si sentono schiacciati da delle decisioni che sentono arrivare dall'alto, non le capiscono del tutto, non le riescono a gestire e quindi le opportunità che si sarebbero potute creare lavorando meglio nel passato non ci sono, ci sono impatti. Quindi forse l'approccio è quello di provare a cambiare un attimo anche velocità di reazione e chiedere di costruire delle strategie che dia un'opportunità di cambiamento concreto, riducendo i rischi e aumentando le opportunità laddove evidentemente è possibile. Sul secondo punto la devo correggere, perché io non ho detto che chi dice qualcosa di contrario a quello che dice la scienza del clima a livello internazionale viene definito negazionista, non è così. Però com'è che funziona la scienza? Se c'è qualcuno che ha un'idea contraria benvenga, se c'è qualcuno che ha una posizione contraria benvenga, potrà pubblicare uno studio con dati e prove che varrà sottoposto a revisione paritaria e dopodiché sarà quello che diventerà importante, non chi dice quella cosa lì. È così che funziona la scienza. Quindi io vi ho mostrato alcuni titoli e alcuni personaggi che hanno tutti i diritti di dire la loro, ma la loro opinione ha un valore scientifico solo nel momento in cui viene dimostrata e revisionata. In questo senso noi definiamo all'interno della nostra bolla climatica, che ormai sta diventando gigante perché fortunatamente il tema climatico nel bene e nel male è un tema dibattuto quotidianamente, in questo senso nasce la parola negazionista, nel senso che è la persona che nega quello che la scienza sta dicendo, che è stato provato e revisionato e lo nega non portando dei dati a supporto della propria posizione. Quindi spero che questo sia un chiarimento sufficiente. Grazie. Passiamo all'altra domanda che non mi ricordo più, perché io ho... Se potrebbe succedere che questi cambiamenti climatici... Ah, ora me lo ricordo. Allora, soprattutto la questione meteo è una questione interessante, è una domanda che mi viene fatta spesso. Allora, con la meteorologia, visto che le previsioni del tempo le usiamo tutti, forse 30 secondi, su che cos'è una previsione del tempo potrebbe essere utile? Allora, noi facciamo una fotografia tridimensionale dell'atmosfera in questo istante in cui ci stiamo parlando. Come la facciamo questa fotografia? Raccogliamo dati, stazioni a terra, radar, satelliti, palloni sonda che volano verso l'alto in verticale, strumenti che sono negli aerei, strumenti che sono nelle navi e via dicendo. Raccogliamo tutti i dati, facciamo una fotografia tridimensionale, mettiamo questi dati in un supercomputer, perché in ambito meteorologico si utilizzano supercomputer. Utilizziamo i modelli matematico-fisici con tutte le equazioni della termodinamica e facciamo evolvere questa fotografia tridimensionale per le ore successive, oggi pomeriggio, stasera, domani, domani mattina, domani pomeriggio e via dicendo. In tutto questo, nonostante la mole di dati, si parla di milioni di miliardi di dati elaborati a ogni secondo dai supercomputer, quindi cerchiamo di capire che cosa c'è dietro quelle previsioni del tempo con cui noi ce la prendiamo sempre. Riusciamo a descrivere un sistema caotico come l'atmosfera con un indice di affidabilità che negli ultimi anni è migliorato tantissimo. Provate a ragionare a cosa chiedete voi a una previsione del tempo. La stessa cosa che chiedevate 30 anni fa, 40 anni fa? O volete sapere girando la via che tempo trovate? Fra 10 minuti, fra un quarto d'ora, fra due ore? Forse è quello che è cambiato, non la meteorologia che è peggiorata. In tutto questo, un'altra domanda importante è quanto è affidabile una previsione? Per quanto tempo? Come al solito nella fisica dell'atmosfera le risposte sono sempre difficili. Nel senso che dipende, se abbiamo un'atmosfera stabile, non particolarmente dinamica, una previsione del tempo può avere un buon indice di affidabilità anche una settimana, oserei dire 10 giorni, magari anticiclone, bello stabile che non si muove. Se abbiamo un treno di perturbazioni, la perturbazione non ha un buon indice di affidabilità neanche per domani, perché magari nel mezzo passa un'altra perturbazione. Il nostro modello ha bisogno di studiare la prima perturbazione e poi rianalizzare la perturbazione successiva. E lì abbiamo un indice di affidabilità basso anche sulle 48 ore. L'indice di affidabilità si abbassa anche in funzione del fenomeno. Cosa descriviamo? Una perturbazione ben strutturata dal nord atlantico o un temporale? O addirittura vogliamo analizzare un tornado? Il tema è che con il cambiamento climatico si stanno estremizzando i fenomeni intensi e localmente intensi, per cui noi a livello meteorologico alcune volte dico dovrei cambiare mestiere, perché sta diventando troppo stressante questa cosa. Io poi la vivo molto, quindi quando vedo che ci sono delle situazioni di rischio non è facile mantenere le distanze. Voi avrete visto che forse, non so se abbia capitato, c'è stato un meteorologo che negli Stati Uniti si è messo a piangere quando ha visto l'uragano Milton con categoria 5 fare strike sulla Corsica, sulla Florida, poi ha perso di intensità con categoria 3. L'unico motivo per cui non ci sono state vittime è che loro sono eccezionali nella prevenzione. Hanno evacuato milioni di persone e questo è il motivo per cui non ci sono state vittime, non avevano detto chissà che cosa, poi non è morto nessuno. No, sono stati bravissimi nel fare evacuare tutta la popolazione nelle aree a rischio. Stringo. Il fatto è che in un clima estremo, con sempre più fenomeni estremi sul locale, diventa sempre più difficile a livello meteorologico agire su quella singola situazione. Noi facciamo molta più fatica ad analizzare un piccolo temporale che colpisce un pezzo di Vicenza e l'altro no, piuttosto che analizzare una perturbazione che porta a precipitazioni distribuite sul territorio. Questo proprio perché c'è una differenza in termini di struttura e proprio di dinamicità. Quindi perché il cambiamento climatico sta rendendo sempre più difficile la vita del meteorologo? Perché l'aumento di fenomeni estremi sta mettendo a dura prova quella che è la descrizione del fenomeno stesso. Allora, abbiamo tempo per un altro paio di domande? Prego, qua in seconda fila. Una domanda molto semplice e un pochettino esco dal suo campo e entro in quello psicologico. Noi italiani abbiamo dato una dimostrazione di altissima efficienza, credo, quando è stata avviata la campagna contro il fumo. Credo che siamo stati il paese che più rapidamente ha smesso di fumare e se le statistiche sono corrette siamo tra quelli che meglio riciclano i rifiuti o separano i rifiuti. Dopo non li depuriamo e questo è un altro tipo di discorso ancora. E' però forse un pochettino questo collegato. Io credo che su questi temi, io sono molto convinto per motivi anche futili se vogliamo del cambiamento climatico, io mi sono sempre segnato quante volte sghiacciavo l'acqua del mio cane 50 anni fa e quante volte la sghiaccio adesso? Zero. Quindi voglio dire c'è un effetto tangibile. Ma io credo che questo debba essere comunicato. Cioè per me lo strumento fondamentale per fare un passo avanti è un corretto modo di comunicazione alle persone che parte dalla scuola, che venga ripreso in maniera corretta, che non si metta in contrapposizione, tu sei un negazionista, tu sei uno stupido e questo perché io ho visto effetti dirompenti anche familiari in questi casi qua nel caso del covid. Quindi mettiamo un po' i piedi per terra, cerchiamo di partire con un po' di istruzione. E' vero sì, e io non posso che essere d'accordo con lei, nel senso che è vero, ci vuole istruzione, ci vuole educazione e posso dirvi che anche un po' per diciamo quello che riesco fortunatamente a portare avanti a livello professionale, nelle scuole si sta cercando di fare tanto, con i bambini, con le bambine, con i ragazzi, ogni ordine è grado. Questo perché è quello che noi possiamo fare per loro, no? Dargli non solo consapevolezza ma anche degli strumenti direttamente di adattamento, loro conoscendo e riuscendo a interpretare meglio possono muoversi meglio nel futuro. Quindi questo, su tutto il resto, sul fatto anche della corretta comunicazione, del fatto che credo che sia necessario aprire un po' i propri orizzonti, no? E cercare di capire anche a livello psicologico, come reagisce una persona quando si parla di cambiamento climatico? Io personalmente credo che negli anni anche il mio modo di comunicare il cambiamento climatico è cambiato enormemente e questo semplicemente grazie alla lettura che ho fatto di alcuni studi che spiegavano proprio a livello psicologico quali sono le barriere psicologiche che si innalzano quando io racconto qualcosa. Una volta parlavo solo di dati e mi stupivo, quasi mi arrabbiavo, forse anche perché ero più giovane, del fatto che non bastassero i dati. Dicevo perché non bastano i dati? Ma non è sufficientemente chiaro. Poi ho capito che in realtà non era sufficiente nel senso che quando si parla di dati dentro a chi ascolta, a chi legge, a chi guarda così ci sono delle reazioni e delle interpretazioni di quel dato che possono per l'appunto dar vita a delle barriere psicologiche che ci allontanano poi da quello che dovrebbe essere l'obiettivo comune. Qual è l'obiettivo comune? Creare una reazione propositiva. Se poi trasferiamo questo alla comunicazione dei mass media io alzo le mani, nel senso che abbiamo tutto, definizioni di force balance, definizioni di climate delay che è il costante ritardo, ogni tanto ci viene chiesto ma quindi voi parlate, parlate e poi? Eh ma la scienza o chi si occupa di comunicazione può parlare, può rivolgersi ai decisori, può rivolgersi alla politica, ma poi sono i decisori politici che decidono e fanno. E quindi lì io potrei, grazie, potrei chiederlo a voi cosa facciamo? Cosa facciamo? Come cittadinanza mi viene da dire ma cos'è che è importante fare come individuo? Votare, richiedere, cioè lo dobbiamo chiedere con forza, altrimenti continueremo così. Grazie. 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 Grazie.